Io costretto a fare causa. Con questo titolo è stata pubblicata oggi sulla prima pagina nazionale del quotidiano Il Tempo la lettera del presidente della provincia di Teramo, Walter Catarra. Una lettera dal titolo emblematico dove vengono esposti dal presidente le motivazioni riguardo il risarcimento di 15 milioni di euro per trasferimenti mai erogati richiesti dalla provincia teramana allo Stato italiano. Io ho difeso quelli che ritengo siano i diritti dei cittadini più che delle province. Se i cittadini devono, possono avere la possibilità di votare i propri rappresentanti nelle province, possono ricevere quello che lo Stato gli deve. Io parlo soprattutto degli imprenditori, dei fornitori di siti generale che per lunghi anni hanno atteso che le province o i comuni salvassero i propri debiti e questo non avveniva perché lo Stato non pagava le province e i comuni. Crediti immediatamente esigibili che la provincia vanta dal 1996. Soldi con un fine ben preciso, quello di pagare tutte le imprese che avevano svolto lavori per l'amministrazione e che da anni attendevano di ricevere il mandato per presentarsi all'incasso in banca. Una vicenda che dopo le festività conoscerà l'epilogo definitivo. E' attesa infatti per il mese di gennaio la decisione della Cassazione dopo che era stato accolto dal Tribunale di Roma il ricorso per decreto ingiuntivo presentato contro il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Finanze. Ormai i soldi che ci hanno dati e ci toccavano quindi non è che ci sarà molto da dire o da fare e abbiamo ottenuto in cassa 15 milioni di euro che già stiamo distribuendo al territorio, cioè a tutti coloro che giustamente aspettavano che la provincia onorasse i propri debiti. Una sentenza che ha scatenato subito un effetto domino con altre cinque province, Treviso, Padova, Venezia, Savona e Torino pronte a sfruttarla e a batter cassa per gli arretrati mai pagati. Purtroppo non avranno soddisfazione perché nel frattempo il Ministero ha chiuso le porte dicendo che non può pagare naturalmente tutto e in più ci sono delle difficoltà a stabilire, a certificare la cifra esatta, cosa che noi abbiamo fatto per tempo, adesso io contesto anche coloro che dicono alcuni, la tesi di alcuni è che l'ho fatto per ripiccare i confronti del governo, non è così, noi eravamo già pronti, sapevamo di preciso quant'era la cifra che dovevamo avere dallo Stato, l'avevamo fatta certificare dal Ministero addirittura che poi ce l'ha dovuto erogare, quindi gli altri che stanno facendo adesso le richieste non avevano questi requisiti se vogliamo e poi soprattutto il governo oggi non ha più liquidità disponibili e quindi non ce la farà a pagare ulteriormente.